Nonna Concetta, mio cugino Alvaro, Peppe in droga! E ora anche io, questo strano brunito, è un incredibile, voglio di candidarmi! Ma se non sai almeno gestire il tuo cassetto delle mutate! Lo so! Ma me lo dai il buco? No! Ma posso darti... Candi-no! Se anche tu ti sei candidato immotivatamente, Candi-no è l'unica soluzione contro la candidosi elettorale. Se sei inaffidabile, ladro, paraculo o semplicemente figlio di una madre che non ti stima, non candidarti! Candi-no! Già non voglio più candidarmi! Benissimo! Ma Candi-no è anche in supposte! Ma che cosa cambia? Beh, il principio attivo è lo stesso. Ma se sei il solito nodo politico bugiato ladrone che si ricandida, prova anche tu per una volta le prezze di prenderla in culo. Candi-no! Evviva Candi-no! La prevenzione è importante. Se qualcuno ti chiede il voto in cambio di un favore, mandalo preventivamente a panculo. Candi-no! È un presidio videomedico di StopTV.